Ci prendiamo cura anche della nostra schiena, ma soprattutto di un dolore molto fastidioso per chi lo prova, che è quello della scoliosi. La scoliosi, adesso ci dirà bene il nostro ospite esattamente di che cosa si tratta, ma solitamente compare o in età scolare, quindi per i ragazzi fino ai 12 anni circa, oppure più avanti, quando in età avanzata, da anziani, o ne abbiamo sofferto in passato e si ripresenta, oppure abbiamo delle problematiche che ci portano ad avere nuovamente questa scoliosi. E allora oggi ne parliamo perché risponderà a tutte le nostre domande il nostro osteopata, che è il dottor Gabriele Benedetti, bentornato al mio medico e grazie di essere qui. Intanto ti faccio gli auguri e faccio gli auguri a tutte le donne che ci seguono da casa, quindi tanti auguri a tutte. Grazie, grazie mille. Allora, partiamo proprio dal principio. Perché soffriamo di scoliosi? Che cosa succede alla nostra schiena? Abbiamo qui un manichino ridotto un po' male che ci aiuta. Il nostro Johnny. Il nostro Johnny. Che oggi non è in posa fashion, come vedi, ma ha tre curve fondamentali che lo portano ad essere un pochino storto rispetto, diciamo, a una situazione più normale. Che cosa accade? Normalmente il bacino può inclinarsi, quindi creiamo dei compensi per cui si crea una prima curva lombare, che è questa che vedi, poi si crea un compenso di curva dorsale e poi una terza curva, quindi cervicale. Quindi la scoliosi è l'insieme di queste tre curve che creano compensi su compensi e spesso prende il nome anche di scoliosi a esse italica, proprio per la sua conformazione. Ovviamente la scoliosi può dare dolori, ma soprattutto malformazioni, perché partiamo da un paramorfismo normale, quindi un semplice atteggiamento scoliotico, a vere e proprie deformazioni che danno problemi seri poi nel corso della vita. E adesso vedremo bene perché. Vediamo passo passo, intanto facciamo entrare, io ringrazio la sua paziente Giulia, grazie per essere qui con noi, perché proprio grazie a Giulia, innanzitutto iniziamo a vedere quali... Vediamoci in avanti. Sì, come facciamo a capire, se veniamo a studio dall'osteopata a fare la prima visita, intanto come funziona la visita e come facciamo a capire che stiamo soffrendo di scoliosi? Come vedi sto toccando due punti in contemporanea, uno è dato dalla curva di Johnny della dorsale che avendo attaccate alle vertebre dorsali tutte le coste, crea, si dice, una rotazione del costato. E quindi questa rotazione del costato la possiamo vedere bene, perché in questo caso vedi che ruotando le vertebre e di conseguenza le coste si crea quello che tecnicamente è un gibbo. Quindi non è soltanto una malformazione su un piano frontale, ma comincia poi a avere anche rotazioni su altri piani. Quindi in questo caso va a coinvolgere questo test di flessione che porta a una malformazione delle coste e quindi questo test io lo faccio sempre perché ci fa già capire quanto visivamente appunto la scoliosi si riesce a individuare. Quindi il primo approccio dall'osteopata è una visita di questo tipo? Esatto, è l'esame obiettivo. L'esame obiettivo è quello proprio di visualizzare il paziente frontalmente, l'abbiamo visto con Johnny perché logicamente è più visivo, però poi ci sono test invece funzionali che riescono a mettere in movimento queste strutture osti articolari e fanno vedere appunto le deformazioni della scoliosi. Passiamo però al primo trattamento. Esatto. Come funziona? Che cos'è? Testa qui, di fianco. Io andrò adesso a farvi vedere come approcciare tutte e tre le curve di cui abbiamo parlato. Quindi quella lombare che spesso coinvolge anche il bacino, poi quella dorsale e quella cervicale. Stendi bene le gambe. Il concetto fondamentale è quello di lavorare sui fulcri perché di solito una vertebra ha una sua normale rotazione e per la scoliosi invece va a compiere una rotazione opposta. Quindi dovrò andare a correggere questa rotazione nel fulcro. In questo caso sono sulle vertebre lombari, quindi una preparazione al millimetro perché devo preparare tutti i piani biomeccanici. Brava, ti rilassi completamente e da adesso tu fai una piccola ispirazione e rilassati. Fuori l'aria. Benissimo. Comoda, abbandona le gambe. Brava. Eccolo qui. Quindi come vedi si sente un bel rumorino. Non ti spaventare Fabio, è tutto sotto controllo, non si rompe nulla. Però si va a proprio sbloccare questo forte fulcro e questo è il mio primo punto di partenza per iniziare un'opera di intanto interruzione della degenerazione della scoliosi perché la scoliosi è degenerativa quindi non si ferma, continua a peggiorare nel tempo. Il mio primo approccio intanto è intervenire sul fulcro, bloccare questa degenerazione. Allora a proposito di questo, quindi partendo da questo, io prima parlavo di età. C'è un'età scolare in cui solitamente si dice che la postura del ragazzo che studia lo porta ad avere la scoliosi e poi c'è un riproporsi di questa situazione anche in età avanzata oppure un proporsi dovuto a delle patologie. Qual è l'età in cui si può intervenire? Tu lo sai che ascoltandomi la domanda mi viene in mente proprio che in questi ultimi due anni di pandemia c'è stato un aumento esponenziale di incidenza di scoliosi proprio dovuto alla postura. Il fatto che ci sia lo smart working per le persone insomma di media età, il fatto che gli anziani siano usciti molto di meno, il fatto che i bambini siano stati indatti a casa. Per cui la postura è della chiave alla base di tutte le problematiche di scoliosi. Quindi partiamo con i bambini che sono seduti male a scuola e nei primi 12 anni di vita di solito mi viene sempre il paziente dicendo ma porto il bambino che ha 16 anni, a 15 anni, 15 anni è tardi. Il bambino va visto, quindi messaggio che mando proprio alle nonne, alle mamme, il bambino va visto entro i 12 anni. Quindi 10 anni, 8 anni è il momento ideale. Quindi fase scolare. Poi c'è tutta la fase ovviamente di degenerazione durante la vita e poi con gli anziani si crolla perché si perde molta muscolatura, spesso si soffre di osteoporosi e quel crollo va vertiginosamente a deviare le nostre curve. E quindi dobbiamo assolutamente farci visitare. Passiamo subito al secondo trattamento. Pancia in giù. Questo di solito lo tratto sempre a pancia in sopra nei pazienti più giovani. Invece adesso voglio farvi vedere una tecnica che utilizzo maggiormente con gli anziani, quindi più delicata, che andrà a sbloccare proprio il fulcro dorsale di cui parlavamo. Quindi vado a cercare il fulcro che mi interessa, quindi vado a testare, vedi la differenza tra un punto e l'altro, individuo il punto, chiedo una bella ispirazione, fuori l'aria, bravissima, ti rilassi, eccolo qui. Si sente, sembra quasi lo stappamento di una bottiglia, perché in questo caso sblocco il fulcro dorsale e quindi siamo al lombare, dorsale e poi vedremo appunto quello cervicale. Allora, passiamo subito al terzo trattamento che è quello cervicale, così abbiamo trattato l'intera colonna. Mettiamoci su i gomiti, questa è un pochino più scenografica perché richiede proprio una collaborazione del paziente. Adesso tu rimani sui gomiti, bravissima, rimani sulle spalle, ma lascia cadere la testa completamente. Vedi che vado a cercare anche in questo caso il famoso fulcro, quindi dove avviene il cambio di curva, lasciati cadere, rilassata, morbida morbida, rilassati, brava. Quindi una tecnica un pochino più complessa, ma che fa vedere appunto come sbloccare l'ultimo tratto che è quello del passaggio tra l'ultima vertebra dorsale e quella cervicale. Allora, un'altra cosa che si sente spesso dire è che la fisioterapia può aiutare. In questo caso che tipo di fisioterapia e se può farci vedere un esercizio? Allora, la fisioterapia è fondamentale se non addirittura, è proprio importantissima per quanto mi riguarda perché io vedo il paziente due volte l'anno sbloccando i fulcri, quindi ogni sei mesi è più che sufficiente a qualunque età. Ma il lavoro del fisioterapista invece è un lavoro che continua, quindi magari ci si può andare una o due volte al mese durante l'anno e ci aiuterà. Mettiamoci da questo lato, vieni. Perfetto. Lavoro normalmente che può essere attivo quindi con la ginnastica posturale, quindi esercizi specifici di rafforzamento, di stretching, ma soprattutto il lavoro passivo che fa il fisioterapista lavorando su muscolature perché noi abbiamo il quadrato dei lombi, che è questo muscolone qui, che nella scogliosi in tutti i pazienti, da un lato è completamente allungato, dall'altro è accorciato. Quindi dobbiamo andare a lavorare su quello accorciato riallungandolo. E farò questo tiraggio che come vedi adesso io vado ad aumentare per darti un'idea chiara. Più tiro, più si va ad allungare questo muscolo. Quindi io lavoro sulla parte osteoarticolare, il fisioterapista sulla parte muscolare che nella scogliosi è fondamentale. E quindi è un lavoro combinato che è fondamentale per riprendersi e star bene a qualsiasi età appunto diceva. E allora io intanto ringrazio il dottor Benedetti. Grazie a voi.